Illustrata in conferenza stampa a Palazzo Vidoni, l'edizione d'esordio della Cremona Contemporanea Art Week, rassegna dedicata all'arte contemporanea realizzata con il patrocinio del Comune della provincia di Cremona e il sostegno di numerosi sponsor, che coinvolge le realtà culturali del territorio, trasformando la città del Torrazzo in un luogo di sperimentazione e scoperta. Da sabato 27 maggio a domenica 4 giugno, il pubblico potrà osservare le opere di 21 artisti esposti in 14 luoghi del centro, inclusi spazi inconsueti e magari scelti per l'occasione. Previsti inoltre eventi collaterali, quali conferenze, laboratori e proiezioni, il calendario è disponibile sul sito web della manifestazione. Spiega la genesi dell'iniziativa Leonardo Caldonazzo, gallerista del Triangolo Art Gallery e coordinatore produzione di Cremona Contemporanea. La persona che ha iniziato tutto è stata Ettore Favini, che è un artista cremonese, un artista in cui io lavoro da tanti anni. E' nata dal confrontarsi, dal vedere che comunque la scena artistica cremonese si stava un po' espandendo, nel senso che noi come galleria siamo aperti da cinque anni quest'anno. C'era un altro spazio molto bello che aveva appena aperto, che è San Carlo Cremona. Insomma, confrontandoci abbiamo detto perché non ampliare questa ondata che stava arrivando a Cremona di arte, anche di altissimo livello, di tutti i grandi artisti che ha portato San Carlo a Cremona, rendendola qualcosa di più grande. Particolarità dell'Art Week è la connessione fra le opere in mostra e gli spazi che le ospitano, come racconta la curatrice Rossella Farinotti. Filo Rosso è la città di Cremona. L'idea è proprio quella di non portare un lavoro all'interno di un posto, è proprio andare a interagire con l'estetica, con la storia di quel posto, di cui anche gli artisti individuati erano adatti per il contesto in cui loro erano stati invitati. Quindi insomma tutti hanno lavorato con la storia di Cremona e con la storia di questi luoghi. La chermesse si aprirà con lo svelamento del lavoro ideato appositamente per Cremona da Maurizio Cattelan nel Battistero.